Ieri notte alle due e mezzo del mattino ci siamo fermati davanti al forno una pasticceria in una via del centro storico e c'era la porta aperta e si vedevano le persone che lavoravano dentro preparando le paste, i maritozzi, forse anche il pane. Ci siamo affacciati e abbiamo acquistato un paio di paste per fare la colazione questa mattina. Era una notte bellissima, c'era caldo, infatti avevamo ancora la maglietta e maniche corte, non c'è bisogno più di portarsi dietro il maglioncino quando si esce alla sera, ormai siamo in piena estate a Cagliari. Era da tantissimo tempo che non compravo i corneti per la colazione tornando a casa la notte prima e devo dire la verità anche era un bel po' di tempo che non tornavo a casa le due e mezza. È bello, è stata una serata molto bella, prima c'è stata la presentazione del libro non turismo sul villaggio pescatori Giorgino, l'abbiamo fatta in un caffè centrale, in un caffè storico di Cagliari nella zona pedonale e poi col gruppo di lavoro del libro di River Run siamo andati a cena e dopo la cena un fantastico dopo cena a cazzeggiare, a scherzare, a divertirci come non facevo da tantissimo tempo. Questo anche è un indice di come le cose stiano tornando lentamente alla normalità. È vero al ristorante avevamo la mascherina quando ci alzavamo per uscire fuori un attimo pure per muoverci dentro la sala. È vero che tornando a casa anche se era notte tardi, in effetti ci siamo guardati a un certo punto dicendo, mamma il coprifuoco non era mezzanotte, boh sinceramente vi giuro che non lo so. Sì e per strada c'era un sacco di gente e mi sono venute in mente alcune immagini del lockdown. Mi ricordo particolarmente un giorno che ero andata a portare delle medicine a mia mamma. Era un sabato pomeriggio e la via principale di Cagliari era deserta. Io per tutto il tempo da casa di mia mamma a casa mia su circa meno di 20 minuti a piedi, comunque attraverso il centro storico, strade di solito molto trafficate, non avevo incontrato un'anima viva e la cosa mi aveva veramente scioccato. Ecco lentamente le cose stanno tornando alla normalità e complice anche queste temperature già molto estive, sopra i 30 gradi. Quindi niente, volevo condividere con voi questo momento di happiness. È bello stare qui e avere degli amici attorno e tornare a casa la notte fermarsi a comprare i cornetti per fare colazione la mattina. Buona domenica.